Un'alleanza tra i Campanali di San Girolamo di Bari decisi ad estendere nell'Interland barese i propri traffici illeciti, droga ma anche estorsione e usura ai danni di imprenditori, e il clan di Rocco Masotti, egemone nel sud-est barese, referente di Leonardo Campanale. Un gruppo criminale emergente, ma aggressivo e pericoloso, ha detto il procuratore Drago, coordinatore della DDA, la conferenza stampa con i vertici di Carabinieri e Polizia. L'operazione congiunta ha portato a 13 arresti, tre esponenti e presunti affiliati al clan Campanale, tra cui Leonardo e Felice, quest'ultimo già detenuto con altri tre, e due collaboratori di giustizia ai domiciliari. In carcere anche Nicola La Selva, una sorta di boss conversano forte del legame con i Campanale. Le indagini sono partite nel 2012 dopo l'omicidio a Rutigliano di Mario Rizzo, che all'Alleanza e alle nuove regole del traffico di Ascice e Marijuana non volle sottostare. Un delitto che avrebbe spianato la strada alla conquista barese di Rutigliano, Conversano, ma anche Polignano, Mola e Monopoli. Gli arrestati andavano in giro armati, con il colpo in canna, pronti a compiere agguati, almeno tre, quelli sventati dalle forze dell'ordine, grazie ad intercettazioni telefoniche ambientali, pur di imporsi sul territorio. Tre reati contestati, un caso di usura, due estorsioni ai danni di un'impresa agricola e un centro noleggio di videopoker, e una tentata ad un'agenzia di pompe funebri a Rutigliano. Una sorta di ritorsione, quest'ultima contro Rizzo, imponendo il pizzo proprio agli imprenditori del suo territorio. Eseguiti anche i sequestri patrimoniali, un immobile a Conversano, un centro estetico a Polignano, cinque auto, droga e armi.